Palla per Vargas, resiste al contatto Vargas, può calciare Vargas! Insegni, a limite, insegni, si gira! Ancora Lorenzo, lo piazza! Mamma mia, cosa ha fatto Lorenzigno! Allora che esce, giusto! Ci fa presagire qualcosa di buono! Ancora Vargas! Ancora Vargas, senza farlo! Parvoli! Fatti perverle, con quello che ho fatto, voglia di sorpresa, tutto il reparto arretrato dell'Anoioseuronda. Erovo Cerino, dopo洗 profilesi! D Syn후, drowned for bosenti! 1 a 0!陶計ara! Vincitato su Amsic, Vargas a destra può ricevere Vargas, Vargas e il tera! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Agli amici svedesi la quarta polpetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.